La Milana in cui è bello vivere, che al top delle città italiane è quella dei problemi, delle solitudini, dell'esistenza a rischio, degli anziani soli appunto. Sono due le immagini della metropoli attraverso le quali Monsignor Mario Delpini delinea la necessità per la Chiesa di impegnarsi, di fare rete e di sviluppare sinergie con le istituzioni. Occasione per un'ampia digressione proprio sulla città è l'assemblea nella quale l'arcivescovo si rivolge ai sacerdoti della zona pastorale prima, appunto Milano. Un appuntamento che si ripeterà con il clero di ognuna delle altre sei zone pastorali della diocesi, ma le parole intanto a Milano sono chiare. Una città che si vanta di essere lanciata verso il futuro, di essere dentro il circuito delle città in cui è bello vivere, in cui la qualità dei servizi rende più facile la vita, la produzione, le dinamiche generali. Ecco, e quindi diventa attraente la città perché è per la sua eccellenza nell'università, negli ospedali, nei servizi, nelle pratiche degli affari. Quindi c'è tutta questa lettura positiva della città. Nello stesso tempo c'è la lettura delle situazioni sociali, di luoghi di particolare degrado, di problematiche sociali complicatissime, di solitudini, di molte molte solitudini, di anziani e di persone sole che non trovano soccorso, di tanti problemi magari anche localmente molto acuti, anche se magari circoscritti. È evidente che la preoccupazione prioritaria sia quella di affrontare le problematiche. La dinamica del buon vicinato non è l'idealizzazione del quartiere modello, ma è la tessitura di rapporti possibili. E quindi questo mi sembra che sia un fattore che devo continuare a raccomandare, anche raccomandando quell'intraprendenza del cristiano che non può essere indifferente a quello che vive alla porta accanto. Ecco, quest'anno è nata anche questa ipotesi di, ipotesi insomma, auspicio di una collaborazione più corale tra le istituzioni. Quindi io questo non lo penso tanto come se io dovessi dialogare col sindaco o il sindaco con me, ma piuttosto lo penserei come una lettura più localizzata della situazione, creando una qualche forma di consultazione che immagino che in qualche luogo già esiste, in cui siano protagoniste le istituzioni locali che si guardino in faccia e gridino, ecco la voce del grido contro l'ingiustizia, e gridino a quelli che, ora questo vuol dire, non so, bisogna trovare una unità che potrebbe essere il quartiere, potrebbe essere, che ne so io, il municipio, la circoscrizione, il decanato, non so quale sia la definizione che può dire allora chi parla di che cosa, ecco perché appunto questo potrebbe essere un inizio, no? Perché chi vorrebbe dire chi? I parroci. E questo per una chiesa che vuole mettersi in gioco. Una chiesa che abbia la capacità di leggere le situazioni, lasciarsi commuovere dal soffrire e alzare il suo grido contro l'ingiustizia sia locale sia a più alto livello. Eccellenza, Milano è la prima classificata tra le città italiane come vivibilità. Lei è l'arcivescovo di questa città, come vede la sua Milano? Queste classifiche naturalmente lasciano più domande che certezze, quindi non so esprimere una valutazione del merito. Però ecco io mi ricordo una volta che ero in una famiglia e c'erano due fratellini, uno un po' più grande e l'altro un po' più piccolo, che litigavano. E allora il papà o la mamma, se non ricordo, insomma comunque ha preso il più grande e gli ha detto ma la vuoi smettere di fare tutte queste sciocchezze? Il più grande si è ribellato dicendo ma perché me la prendi sempre con me? È stato lui a cominciare e così via. Ecco quindi il più grande è stato rimproverato come se fosse lui il colpevole di tutto il chiasso causato dal loro litigio. Questo mi dà l'idea che diciamo essere primi, essere davanti, essere i più grandi, essere i migliori, come probabilmente Milano può sentirsi, non vuol dire tanto riconoscere il lavoro fatto, le condizioni di vita migliori che in altri posti, vuol dire avere maggiori responsabilità. Ecco questo senso io come vescovo di Milano assumo volentieri questa indicazione da questa dichiarazione, da questi esiti delle inchieste compiute. Se è vero che a Milano si vive in modo più sereno, più sicuro che in altre città della terra, bene, ecco, vuol dire che abbiamo più responsabilità per chi ci vive, per chi ci viene e per tutti quelli con cui abbiamo a che fare dentro Milano e fuori Milano. Milano